E' stato denunciato un 25enne dopo una lite terminata con minacce con tanto di coltello a serramanico. Sembra che a scatenare l'alterco e poi la lite siano stati motivi di viabilità. Il giovane è stato bloccato dalla polizia stradale a bordo di un'auto sulla 3 all'altezza di vite sul mare ma in direzione di Napoli. Il 25enne è stato trovato in possesso di un coltello che verosimilmente aveva utilizzato per le minacce. Il veicolo sul quale viaggiava, secondo gli inquirenti, era stato rubato in Italia e poi rimatricolato in Bulgaria. L'uomo che aveva subito le minacce è stato ascoltato dalla polizia al commissariato di Battipaglia. Il giovane è fermato da polstrada e è stato denunciato per il possesso di coltello, minacce aggravate e ricettazione.